Ciao ragazzi, buongiorno, buon inizio di settimana. Spero che sia andato tutto bene e in questa pausa pranzo cerchiamo di dedicare qualche minuto a Juventus-Atalanta. L'ultima partita disputata dalla Juventus, la prima partita disputata post penalizzazione di 15 punti, è partita che, torno a dire ancora una volta, a me ha soddisfatto a grandi linee. Poi ovviamente non posso essere soddisfatto di un pareggio, non posso essere felice di un pareggio, ho maggior ragione in questa condizione di classifica, ma la risposta che ho visto ieri dai giocatori in campo è stata buona. L'atteggiamento a me è piaciuto e quindi oggi andiamo ad analizzare i singoli in questo primo video di giornata, anzi il secondo video di giornata, dato che questa mattina molto presto è uscita anche la live reaction, che vi lascio comunque qui sopra, nelle schede e nel pomeriggio uscirà anche l'analisi della gara dal punto di vista tattico, quindi l'analisi tattica della gara. Vi invito a lasciare un commento, un mi piace, un'iscrizione, passare dai social network, passare tutti i link in descrizione e noi iniziamo perché se no non finiamo più perché solitamente sono un chiacchierone. Allora Allegri, 6 e mezzo, a me è piaciuto come Allegri ha improntato la gara, nel senso che la Juventus aggressiva a tutto campo, che andava a pressare uno contro uno, magari anche contro l'Atalanta, a me è piaciuta, ha convinto. Non pensavo di poter vedere questo tipo di prestazione, soprattutto con il 3-5-2, pure l'Aventus l'ha fatto, Allegri chiamava a pressare. Forse con i cambi si poteva fare un pochino meglio, si potevano gestire un pochino meglio, si poteva fare anche un cambio in più magari, dato che ne abbiamo fatti soltanto 4, di cui uno ha 10 minuti dalla fine, può essere, probabilmente sì, anche perché si è speso tanto, c'è stato un grande spendo di energie, non solo fisiche ma anche mentali, però per me ieri non c'è niente, ma assolutamente niente, da dire all'allenatore, che poi post partita fa uno show di conferenza stampa, in cui va a toccare tante tematiche, anche delicate, con una battuta, con un sorriso, ma intanto le dice, e probabilmente Allegri aveva voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma al di là di questo credo che la Juventus ieri sera abbia gettato il cuore oltre l'ostacolo. Quella di ieri sera da Juventus non è stata solo una partita di cuore, però attenzione, è stata una partita di cuore, sì, quindi una risposta, nervosa, c'è stato, uno stimolo nervoso, ma non solo, perché è stata anche una risposta tecnica, una risposta tattica e una risposta fisica da parte della Juventus. Tutte componenti che se non le metti in campo contro l'Atalanta rischi di farti travolgere, letteralmente. Come dicevo ieri sera, non credo che questo sarà un punto di partenza, soltanto una necessità del momento e dell'avversario, però poi abbiamo da giocare le prossime partite contro il Monza in Serie A e contro la Lazio in Coppa Italia, quindi vediamo che cosa ci aspetta, anche perché poi tra poco arriva anche il Nant per l'Europa League e capire se andremo effettivamente a giocare il cuore di questa competizione, che diventa molto importante in questo momento, perché vincendo l'Europa League si arriva in Champions League tramite la qualificazione. Non mi dispiacerebbe, devo dire la verità. Scesni, purtroppo 4,5. Purtroppo, purtroppo perché quando il portiere fa un errore, e magari fa un errore così grave, il risultato della squadra cambia, per forza di cose, è diverso rispetto a se lo sbaglia l'attaccante davanti alla porta, è un impatto differente. È ovvio che sbagliando così in fretta, nel senso così vicino all'inizio del match c'è tutto il tempo di sistemare, un errore verso la fine invece diventa letale, quindi anche la lettura, il peso specifico dell'errore diventa differente. Il portiere quando sbaglia, sbaglia. Quando sbaglia il portiere prende gol. E tante volte invece quando salva fa solo il suo mestiere. Quindi è un lavoro particolare quello del portiere, con poche gioie e tante critiche. Scesni quest'anno non aveva ancora sbagliato. È il primo errore, vero e proprio, davvero da matita blu, o da matita rossa, che dir si voglia. L'anno scorso era partito male, poi ci aveva fatto guadagnare tantissimi punti, per quanto mi riguarda. Sì, stavo guardando il nome se l'avevo scritto bene. Invece in questa stagione questo è un errore grave. Spiace che sia capitato in questa partita, però non ci si può fare niente, bisogna sottolinearlo. Poi gli altri gol che abbiamo preso nascono da altri errori individuali che non appartengono a Scesni. Però purtroppo un'insufficienza grave per il nostro porterone polacco. Sei più a Danilo. Perché? Perché? Perché a me sarebbe piaciuto dargli anche di più, visto che ha segnato un gol meraviglioso su calcio di punizione con tocco di Di Maria. Però anche qua pesa tantissimo, tantissimo l'errore in fase di impostazione per il 3-2 dell'Atalanta. Anzi, per il secondo gol dell'Atalanta, perché noi veramente lì con Danilo regaliamo quella palla a pochi istanti dall'inizio del secondo tempo. Eravamo in vantaggio, avevamo tutta l'inerza della partita da parte nostra, potevamo gestirla in tutt'altro modo. Invece purtroppo quello è un errore grave. Un errore grave che poi viene pareggiato, tra virgolette, da una prestazione di Danilo e soprattutto dal gol del 3-3 su calcio di punizione. Però è un peccato. Un peccato perché anche queste, vedete, sono delle piccole sbavature, dei piccoli errori che però non sono piccoli, sono macroscopici. Perché sono quegli errori che fa la differenza tra vincere, perdere e pareggiare. Nel calcio sono cose che cambiano molto anche solo la percezione. Bremer, 6 e mezzo. Io credo che il trucco, tra virgolette, per giocare questo tipo di partite aggressive sia sempre Bremer. Perché è il giocatore centrale delle fisatree, quello che chiama le uscite, che guida le uscite, chiama la difesa. Quello che attacca, che difende attaccando. Anche Danilo tante volte in questa stagione l'abbiamo visto fare proprio perché sa che al suo fianco c'è uno come Bremer. A me Bremer è piaciuto. Bremer ha giocato di fisicità, probabilmente non è ancora al 100% a livello fisico e mentale. Quindi secondo me ha fatto la partita che doveva fare e la Juventus è riuscita a giocare magari con dei ritmi alti, elevati, proprio per la presenza di Bremer che ha un certo tipo di gioco, un certo tipo, anzi un certo modo nel marcare gli avversari che spinge per forza di cose la squadra ad attaccare ad alta intensità. Alexandro, 5. Perché non mi è piaciuto nel complesso della partita. Tante volte quando lo puntavano vedevo che faceva fatica anche solo a ritornare di velocità. Era sempre un po' d'ansia all'interno della mia anima. Sentivo sempre dell'ansia quando puntavano Alexandro. Poi gol del 3-3. Lukman salta e Alexandro se lo perde completamente. E quindi, anche qua, un altro errore grave. E già il terzo, secondo me non sarà nemmeno l'ultimo, perché poi ci sarà un altro giocatore, però anche questo è un errore grave e Alexandro non ha fatto niente per cercare di rimediare. Alexandro mi sa tanto da compitino e basta. È da st'estate che dico che lì serve un difensore, difensore mancino, che possa giocare in quella posizione lì. Quindi non ce l'abbiamo, sul mercato non ci andremo, finiremo con Alexandro. Però è la mia priorità per quanto riguarda il mercato estivo, non tanto quell'invernale, perché so bene che non ci saranno colpi, ma quell'estivo deve essere una priorità. McKennie, sei più. Perché? Perché a me è piaciuto comunque McKennie. Secondo me ieri McKennie ha fatto una buona partita. Magari non da 6,5, ma più che la sufficienza secondo me se la porta a casa. A tratti addirittura a Terzino per dare la possibilità ad Alexandro di entrare dentro il campo dall'altra parte e a Kostic o a Chiesa di allargarsi. McKennie secondo me ha fatto una partita molto attenta, molto attenta. A volte anche propositiva. Quindi a me ieri McKennie è piaciuto, è una posizione nella quale non mi convince, proprio perché per caratteristiche non può essere la sua, però ieri ho veramente poco da dire. Secondo me merita anche qualcosa di più rispetto alla sufficienza. E sicuramente di più rispetto alla sufficienza Niccolò Fagioli, che si procura il calcio di rigore, che fa andare la Juventus sull'1-1, quindi rigore importante perché eravamo sotto, e soprattutto tante piccole micro giocate che diventano grandi, macro giocate, all'interno della partita. Fagioli, come dicevo nell'ultimo episodio delle pagelle, non può uscire dal campo in questa Juventus. Anche con il ritorno di Pogba, con il rientro di Pogba, non può uscire. Perché Fagioli dà troppo, dà tanto, tantissimo. Poi è ovvio che se Fagioli andrà incalando e Pogba sarà mega, iper, super in forma. Dopo si faranno delle scelte. C'è anche Rabiot, c'è anche Locatelli. È ovvio che davanti alla difesa già Locatelli non ha il suo ruolo. Fagioli lo vai a snaturare ancora di più probabilmente. Ci può giocare certo, ma non ha il suo ruolo. Quindi vedremo perché ci saranno per forza di cose, dei cambi obbligati, anche con il rientro di Pogba, il rientro di Vlaovic e tanti altri giocatori. Ma questa è una notizia positiva, non negativa, perché significa che la Juventus ha una rosa lunga e qualitativa. E questa è sicuramente, sicuramente una buona notizia. C'è la possibilità di fare bene contro tutti. Ha maggior ragione con l'impronta di atteggiamento, l'impronta tattica, l'impronta offensiva che ho visto ieri sera nella Juventus e che deve diventare continuativa anche nell'arco dei 90 minuti, perché a un certo punto non siamo più riusciti a reggere quei ritmi. Però, ribadisco, secondo me non sarà un primo passo in avanti in cui tutte le partite le giocheremo così. Magari. Era il mio sogno, come dicevo ieri sera. Vedremo, ma non credo. 6 a Locatelli, perché il gol dell'1-0, vero, papera di Scesni, pallone banale, banalissimo, come dicevo nella live reaction, perso da Locatelli, servito all'Atalanta, con la Juventus che sta salendo, l'Atalanta che si ritrova il campo, la porzione di porta dritta, con Lukman che deve soltanto calciare. E poi, ripeto, sì, Scesni fa la papera, infatti si prende 4,5, ma Locatelli perde quel pallone banale. Poi credo che, in realtà, Locatelli abbia fatto una buona partita, e da qui, infatti, la sufficienza. Però non va dimenticato quell'errore. E, ripeto, sono tante piccole cose, vedete, le stiamo mettendo insieme, giocatore per giocatore. Questo non mi è piaciuto in questo, questo non mi è piaciuto in questo, questo ho fatto da qua, questo ho fatto da là. E se le metti tutte insieme, fanno una prestazione in cui la Juventus ha dato tantissimo, tutto quello che non pensavo di vedere ieri l'ho visto, però non si è riuscito a portare a casa la vittoria, proprio per via di queste cose qui. E non sarà questo l'ultimo giocatore, non sarà Locatelli l'ultimo giocatore per il quale ho qualcosina da dire. Sarabio, partita normale del francese, diciamo così. Non ho niente da dire, credo che il 6, il sufficienza, ce la porti a casa da compitino, ma non c'è stato niente da sottolineare l'altro Rabio per quanto mi riguarda. Non mi è piaciuto Kostic, troppo fuori dal gioco, credo che abbia toccato pochissimi palloni, nonostante questa volontà della Juventus di spingere e sfondarli sulla sinistra, quindi Kostic sicuramente non in serata. Gli ho visto fare prestazioni decisamente migliori e so che le può fare. 8 a Di Maria. 8 a Di Maria. 8 perché quel rigore che non viene fischiato su Milik è una palla geniale di Di Maria che serve in profondità al compagno. Perché quel rigore trasformato da Di Maria, che si procura Fagioli, c'è anche Di Maria dentro l'area di rigore e lui prende in mano quella palla pesantissima per il momento ovviamente specifico della Juventus e fa gol. Perché il secondo gol della Juventus nasce da un'invenzione di Di Maria, da quel tacco a servire Fagioli nello spazio, intelligente a capirlo, e bravissimo a mettere anche l'assist Fagioli. Quindi forse anche qualcosa di più di 6 e mezzo in realtà si potrebbe dare a Fagioli, ma va bene così, accontentiamoci e cerchiamo di mantenere il profilo basso. Però la giocata di Di Maria vale il presto e il biglietto, anche solo quella. E poi il tocco sulla punizione di Danilo. Senza pensare a tutto il resto che c'è stato dentro la partita con Di Maria al centro del gioco, il fulcro offensivo della Juventus. Se Di Maria si muove, si muove la Juventus. Se il cuore di Maria batte, batte il cuore della Juventus. 8. 8 perché il giocatore che in questo momento si sta trascinando la Juventus, se l'è presa sulle spalle, io queste prime partite del 2023 lo sto vedendo differente, con un piglio differente rispetto a quello premondiale. Poi ovviamente abbiamo ancora un campione abbastanza limitato, però tra Napoli e oggi io ho visto un Di Maria trascinatore. Quindi speriamo che da qui alla fine della stagione questo trend possa confermarsi. 7 a Milik perché il gol è meraviglioso, col piede debole in drop di controbalzo su una palla deliziosa di Locatelli dopo una giocata meravigliosa di Di Maria, ma soprattutto tanto lavoro dentro la partita di Arkadiusz Milik, giocatore indispensabile per questa Juventus, abile a fare il raccordo tra i reparti, abile a giocare spalla alla porta, abile a fare risponda, abile a giocare tecnicamente bene questi palloni, perché Milik è un centravanti con i piedi da trequartista. Veramente un piede educato, un attaccante col piede educato come Milik. Mi viene in mente Dzeko, mi viene in mente Dzeko, sono quella tipologia di attaccanti, forse di una volta, forse che non li si stanno più, ma Milik veramente ha fatto un partitone, ha fatto un gol meraviglioso, quindi si porta a casa il suo set. Sei a Federico Chiesa che entra e probabilmente non riesce ad impattare sul match come vorrebbe, anche se la sensazione è che sia l'unico vero giocatore che in quel momento può portarti a segnare addirittura un ipotetico 4-3, è l'unico giocatore che ha quell'energia, quella grinta, quella voglia di andare avanti, forse perché era fresco, gli altri iniziavano a fare un po' di fatica, però sicuramente Chiesa è un giocatore in più. Io qua torno a dire, o si cambia il modulo con il ritornio di Chiesa, e si può fare secondo me, perché 4-3-3 per me da sempre è l'abito perfetto per questa Juventus, per la rosa che ha a disposizione, ma capisco che la difesa 3 in questo momento sia un must. Allora o si toglie un centrocampista, però prima parlavamo anche di rientro di Pogba e quindi la difficoltà di lasciarne fuori uno, o Chiesa diventa arma a partita in corso. O se no si mette e punta nel 3-5-2, però a me sembra che Di Maria e Milik stiano andando molto bene, che ci sia anche Vraovic pronto a tornare, che Ken sia lì pronto a scalpitare, quindi è quello che vi dicevo prima, c'è abbondanza, c'è abbondanza difficilmente, probabilmente oggi è possibile fare una formazione tipo della Juventus, è molto complicato, perché Fagioli dovrebbe giocare, perché Chiesa dovrebbe giocare, perché Di Maria dovrebbe giocare, perché Milik dovrebbe giocare, perché Rabiot dovrebbe giocare, perché poi serve un giocatore davanti alla difesa e in questo momento te lo fa Locatelli o te lo fa Paredes, però forse ti serve un centrocampista in meno, perché la difesa a 3 sembra essere l'abito perfetto, ma allo stesso tempo Alexandro non sembra essere a posto, quindi perché Kostic non può fare il terzino, rende meglio a 3, perché a destra a quadrado Danilo non si capisce, quindi capite bene che ci sono degli incastri. Questa Juve non è stata costruita per giocare con la difesa a 3, non è costruita per giocare con la difesa a 3, un po' particolare la situazione, però Chiesa, io da Chiesa mi aspetto tanto, mi aspetto tanto in questo finale di stagione, e non solo dentro il campo, vi dirò. 6 per Moise Ken, Trato ha fatto il suo, ha recuperato quel pallone su di Miral dopo l'erroraccio del Turco, mette il pallone in mezzo per Miretti, che si becca un 5, perché oggettivamente quel pallone è molto pesante, molto pesante, perché andare sul 4-3 in una serata del genere, in una partita del genere, sarebbe stato, esagero se dico, un sogno ad occhi aperti, forse no, e io credo che Miretti vada giustamente punito, in questo momento punito, con un 5, una bocciatura sul canale YouTube di Luca Toselli, quindi chissà che punizione, però è giusto, perché Miretti è un giocatore della Juventus prima squadra, e va trattato come tale, allo stesso tempo è un giovane, ha diritto agli errori, è giusto che sbagli, è giusto che vengano effettuati gli errori nel processo di crescita, ma il processo di crescita si fa anche sottolineando gli errori, ieri sera sentivo il mio amico Davom parlare, e diceva, Miretti è rimasto a quel take-all con il Benfica in Champions League, come dargli torto mentalmente fermo lì, è bloccato lì, ma abbiamo già detto tanti di quelle volte, che da quella serata in poi, Miretti non è stato più Miretti, tanti si chiedono, è stata un'allucinazione collettiva, no, Miretti è forte, è forte, è un giocatore che non ha nemmeno 20 anni, è un giocatore che non ha nemmeno 20 anni, e ha già tantissime partite nella Juventus, io non so quante persone possano vantare questa cosa, alzi la mano, me lo scriva nei commenti, chi a 20 anni ha già giocato 15 partite nella Juventus, ha già giocato 4-5 partite di Champions League, scrivetemelo nei commenti, a 19-20 anni, scrivetemelo, perché nessuno di noi sa quanto pesa psicologicamente questa cosa, quanto impatto mentale ha questa cosa sul ragazzo di 19-20 anni, perché solitamente non si è abituati a quel peso, non si è fatti per sorreggere quel peso, Miretti sì, Miretti lo sta vivendo, ed è naturale che abbia una flessione, ma questo ragazzo sa giocare a calcio, questo ragazzo è un prospetto interessante, non accanitevi contro Miretti, sottolineate il momento negativo perché è giusto, perché è giusto, perché sarebbe intellettualmente disonesto dire che Miretti comunque ha fatto un partitone, quel gol non era facile, no, è una balla, bisogna essere onesti, ma allo stesso tempo non bisogna accanirsi contro questo ragazzo.